take break è un insieme di immagini di situazioni di cose accadute nelle nostre adolescenze ma anche in età più adulta che si rifanno tutte a situazioni felici comunque e che ci hanno forse anche fatto crescere in un certo senso è un po un ritorno alle origini come come canzone prende diciamo spunto da quelle che sono che possono essere le cose più naturali quindi un distacco da il tram tram quotidiano il lavoro le preoccupazioni l'essere sempre al centro dell'attenzione di se stessi e anche degli altri esatto e dedicarsi concentrarsi un po più su quello che è la bellezza del di quello che ci circonda del paesaggio nello special del pezzo è racchiuso il messaggio principale di tutta la canzone che è quello di arrivato un certo punto di sbatterse di tutti gli altri di perdone dimentica di andare avanti e tenere duro perché alla fine dipende tutto da noi questo pezzo è quello secondo me che ha più sonorità internazionali di fatto usa magari dei synth delle tastiere degli accordi degli effetti nelle chitarre comunque che lo rendono molto aperto molto pieno di echi anche che richiama un po anche quella che era tematica della canzone ovvero paesaggi naturali quindi queste cose qua è il pezzo più fresco più estivo se vogliamo The Break è uno di quei pezzi che effettivamente dal vivo ci diverte di più da suonare